E come fare per dimenticare tutto quello che non è andato e come doveva andare? Perché, lo so, per me è sempre uguale, finisce tutto bene, poi non va mai bene, niente sarà che ho tempo da perdere. Non è mai stato facile come pensavo, non ha mai servito a niente. E ora che finalmente, aspettando il giorno nuovo... Razionalità, non è che serve sempre una risposta, lascia perdere di pensare e vieni tutto e pensa dopo. E quanti giorni banali, troppo lunghi, troppo uguali, ed io che guardo da fuori cosa c'è che non va, mi manca un po' d'aria. Non è mai stato facile come pensavo, non ha mai servito a niente. E ora che finalmente, aspettando il giorno nuovo... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!